Solo sul regolamento per le riprese audiovisive e streaming il Consiglio Comunale di Terme Vigliatore ha ritrovato l'ananimità, per il resto ha votato solo la maggioranza e l'opposizione ha preferito uscire dall'aula. Ed il resto erano i punti più importanti, il conto consuntivo 2019 e il disavanzo di amministrazione. Silenzio assoluto sulla mozione di sfiducia e su un'impasse che dura tra i sostenitori della giunta politica è quella di salute pubblica. Questo in sintesi quanto è accaduto nella seduta di Consiglio Comunale della settimana scorsa. L'opposizione con Angelo Sottile e Davide Abbate non ha partecipato al voto sul consuntivo, ritenendo che dovessero essere portati preventivamente in aula i debiti fuori bilancio. Discussioni che si erano ripetute lo scorso anno anche attraverso autoconvocazioni del Consiglio Comunale e che sono state rinnovate anche quest'anno, prima e dopo la predisposizione dell'ordine del giorno. Ho deciso che, vista la situazione, ci assenteremo dall'aula ogni qualvolta verranno affrontate questioni legate al conto consuntivo, al bilancio preventivo e a tutte le manovre economico-finanziarie, ha spiegato il capogruppo Sottile. È meglio essere assenti perché non condividiamo questo modo di procedere. Ovviamente l'assenza si è protratta anche per il disavanzo di amministrazione relativa all'esercizio 2019, provvedimento di ripiano, trattandosi di questioni finanziarie. I consiglieri rimasti in aula hanno votato a favore delle due delibere, otto a favore ed un astenuto, un voto di responsabilità espresso dagli otto consiglieri per consentire all'esecutivo di proseguire, un voto per evitare soprattutto in caso contrario l'invio del commissario e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Solo sul punto relativo al regolamento per ripresa audiovisiva e streaming delle sedute del Consiglio Comunale, punto ad integrazione dell'ordine del giorno, maggioranze e opposizioni hanno detto sì insieme. Nessun commento sulla mozioni di sfiducia e sullo stallo delle due giunte, quella politica e quella di salute pubblica.